Sostengo New Deal for Europe perché penso che l'Europa deve adottarsi di una strategia di crescita comune, unitaria, non egoistica, non di ciascun paese, ma davvero una strategia di sviluppo sostenibile che crei lavoro, crei occasioni per ricominciare a crescere e credere di nuovo nell'Europa che sia spinta dal basso dai cittadini. E' fondamentale ricostruire la democrazia europea dal basso e questa è una grande occasione. Firmiamo e spingiamo per creare davvero una nuova Europa, un'Europa dello sviluppo sostenibile con il New Deal for Europe. Io supporto il New Deal for Europe perché credo che bisogna un sviluppo sostenibile che sviluppe una nuova Europa, una nuova possibilità per crescita, per un'Europa che è quello che abbiamo davvero bisogno che supporte crescita non solo per un singolo paese o un gruppo paese ma come strategia per tutti gli paesi europei. e supporta da persone che si sono rinforzati, da persone, da persone le dimenticate che si sono rinforzati, da persone con le signature di crescita. Perché bisogna essere rinforzati e da persone che si sono rinforzati nell'Europa, perché bisogna essere rinforzati a crescita. E quindi supportiamo questo plan di crescita, viene dalla gente con le signature di crescita. Quindi supportiamo il New Deal for Europe, per l'Europa, per davvero bisogna questo.